Salve a tutti King, qui Francio, bentornati in un nuovo video, sono stato un po' assente dal canale ma mi sono assentato per un motivo, ovvero ho fatto l'investimento di prendere un pc, di prendere un microfono, infatti spero che mi sentiate molto molto meglio e adesso vi porto un gameplay di For Honor che desideravo tanto avere, desideravo tanto avere questo gioco e soprattutto portarvi un qualcosa di diverso oltre Brawl Stars che ovviamente tornerà ma un qualcosa di diverso per chi conosce For Honor in pratica è un gioco dove ci si pesta malamente e fondamentalmente si attacca e ci si difende io adesso ho il vichingo e il razziatore e sono contro un personaggio molto molto difficile da contrastare in realtà perché come vedete è molto molto veloce quindi non è molto facile da contrastare, per questo bisogna fare più che altro un attacco forse nato, cioè non bisogna proprio lasciare l'avversario respirare vedete bisogna attaccare e poi, cioè difendere e poi attaccare, in questo caso ho vinto ma non è stato per niente facile quindi adesso mi impegno e vediamo cosa succede ok, secondo round ok, qui è stato bravissimo lui, lei ok, qui devo iniziare ad attaccare tantissimo sentite sicuramente il rumore del mouse che va come un pazzo ma non posso fare a meno ok, vedete pure il suo attacco e i suoi attacchi sono troppo veloci sono troppo veloci i suoi attacchi, non riesco proprio a neanche a difendermi, come è successo nel primo round con con me, lei non riusciva a difendersi adesso la chiamo lei perché non so il sesso del ok, qua qua pure è stata una schivata qui si vede che usa la nobush da un bel po' di tempo perché riesce a concatenare un sacco di attacchi che io non saprei fare col razziatore ok, qui l'abbiamo un pochino riuscita a mettere alle strette ma non ce la faccio non ce la faccio proprio, cioè è assurda come personaggio, è proprio assurdo infatti lei è molto vulnerabile a anche il mio personaggio però bisogna saperlo utilizzare perché il razziatore non è è molto rischioso da utilizzare il razziatore perché non ha tante mosse ha soltanto attacco e difesa mentre lei riesce a concatenare mosse di qualsiasi tipo, vedete c'è anche il calcio ok vediamo un pochino se adesso posso attaccare anche io ok vediamo se riesco vedete anche se la metto alle strette è difficilissimo colpire anche se la metto alle strette proprio difficile è proprio difficile colpire anche se la metto alle strette ma oh round 4 pari non mi era mai successo eh quindi quindi non vince nessuno eh a quanto pare non vince nessuno mamma mia vi giuro che non mi era mai successo round pari non mi era mai successo ok qui sono riuscito a entrare bene ok 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 qui al solito l'ho messo un po' alle strette ma è tutta un'illusione appunto qui avevo la guardia già pronta qui riesco un attimino a contraattaccare un po' vedete qui lui se ne sta uscendo sta cercando di uscire dall'angolino perché questo qui è round decisivo eh quindi diciamo che può decidere la partita e infatti se lo sta giocando davvero bene ma ce l'ho fatta mamma mia cioè una soddisfazione una soddisfazione assurda perché cioè assurda assurda ah no round spareggio è vero è vero io mi ero illuso troppo presto però intanto vedete che è una vittoria eh per me è come se fosse una vittoria perché cioè vincere contro l'anobushi fidatevi che è una vittoria per un razziatore per io che per me che che amo giocare con il razziatore è davvero una vittoria battere un'anobushi è infatti qui qui mi sta qui non mi da scampo come faccio io come faccio come come scusami cioè se mi dai un po' di spazio magari si però così non si fa oh guardate i miei hp cioè assurdi assurdi però però ce l'ho fatta aspettate che mandiamo un messaggio io mando sempre un messaggio di comunque per congratularmi perché è stato un bellissimo scontro e quindi niente sono davvero contento questo sarà il primo gameplay di For Honor e vedrò diciamo di oh scusate il microfono urtate il microfono vedrò di portarne altri anche perché sto provando vari programmi di di registrazione quindi vedrò di trovare quello giusto e niente noi ci vediamo al prossimo video spero su For Honor se no sarà su Brawl Stars e niente iscrivetevi attivate la campanella e commentate ciao 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 ciao